ciao e benvenuti in questo mio quarto video tutorial su Creo Parametric 11 questo sarà un video tutorial di approfondimento rispetto al terzo video che ho fatto pochi giorni fa semplicemente per inserire argomenti che non sono riuscito a trattare in quel video e che sono comunque secondo me importanti sempre relativamente allo sketch quindi andiamo a vedere alcuni aspetti che ho tralasciato come ad esempio alcuni comandi di disegno abbastanza importanti che è bene descrivere ad esempio tra tutti ho tralasciato il rettangolo centrale cioè la possibilità di disegnare un rettangolo dal suo centro con un click fino alla posizione del vertice con un secondo click poi abbiamo nello sketch anche la possibilità di disegnare rettangoli inclinati in questo modo definendo quindi con due click un lato del rettangolo e con un terzo click la posizione del terzo vertice poi abbiamo anche la possibilità di disegnare parallelogrammi col comando omonimo sempre due click per definire un lato del parallelogramma e un terzo click in una posizione qualsiasi per definire il terzo vertice ricordiamoci la possibilità di cancellare con un box di selezione e fare canch andiamo avanti un altro strumento importante la possibilità di generare geometrie di costruzione semplicemente premendo questo tasto in questo modo tutti gli strumenti alla sua destra di disegno all'interno dello sketch diventano strumenti che consentono di disegnare geometrie di costruzione quindi possiamo ad esempio disegnare più circonferenze di costruzione che non verranno estruse qualora disegnassimo uno schiaccio all'interno di un'estrusione disattiviamo la modalità di costruzione e poi possiamo disegnare geometrie solide che quindi potranno essere estrusi e comunque saranno visibili all'esterno dello sketch cosa che invece non avviene per le geometrie di costruzione ok approfondiamo meglio l'argomento di alcuni strumenti che si consentono di proiettare o settare o spessorare piccoli preesistenti o curve preesistenti sul nostro piano di sketch quindi ad esempio con il comando proietta noi possiamo andare tranquillamente chiudendo questa finestra a selezionare gli spigoli che verranno appunto proiettati sul nostro piano di sketch e quindi in questa fase è sufficiente confermare oppure possiamo anche proiettare con offset quindi usando un comando che è questo ok vado a selezionare sempre la geometria che mi interessa come vedete mi consente definire un offset con un valore che posso cambiare dinamicamente sia all'interno che all'esterno quindi sia in positivo che in negativo anche qui posso eventualmente confermare con questo comando vado a confermare questa entità offsetata per poi continuare a selezionare altre altrimenti con questo confermo il comando che viene chiuso e chiudo così come la possibilità di fare in maniera simile uno spessoramento con anche delle chiusure cioè costruire uno sketch che definisce un'area chiusa chiusa in maniera o circolare o rettilinea oppure posso lasciarla aperta ma in questo caso vi dico circolare di chiuderla con degli archi di cerchio vado a selezionare l'entità gli vado a definire quello che è lo spessore totale 4 in questo caso e quello che è il semi spessore che può essere a mio piacimento in questo caso mi vado a dare esattamente la metà di 4 quindi 2 in questo modo vado a disegnare questa sorta di asola che sostanzialmente va a costruirsi intorno al riferimento a questo spigolo qui tutti questi tre comandi il proietta lo spessore e l'offset in realtà vanno a creare appunto delle geometrie di riferimento come in questo caso ok facciamo anche un rapido approfondimento per quanto riguarda i vincoli abbiamo già visto qualcosa nel video precedente ma cerco di fare un approfondimento posso definire dei vincoli d'uguaglianza come altre tipologie di vincoli che sono mostrate qui basta postarci sopra con il mouse per vedere quelle che sono le descrizioni e quindi le funzionalità abbastanza chiare ed evidenti presenti anche in altri sistemi cad tra l'altro ma con il vincolo d'uguaglianza vado a selezionare due entità che non sono uguali e gli impongo appunto questo vincolo riguardati sempre col tasto centrale esco dal comando volendo il vincolo d'uguaglianza lo posso anche applicare a delle quote quindi posso dirgli che queste due quote devono essere sempre uguali per questo farà sì che appariranno questi simboli e 1 ed è uno che sta proprio e sta per equal e quindi per uguale quindi anche questa è una cosa abbastanza comoda altro esempio di vincolo ad esempio la possibilità di disegnare una linea inizialmente in una posizione random casuale e poi imporgli un vincolo di coincidenza con il punto medio di un segmento e il vertice di un altro segmento quindi vado a selezionare il vertice vado a selezionare il segmento e lui impone questo vincolo al punto medio poi molto comodo sicuramente in tante situazioni il vincolo di simmetria che possiamo fare a cavallo di qualsiasi geometria che può essere una linea di riferimento piuttosto una linea di sketch piuttosto che un asse di mezzeria che è un altro comando disponibile all'interno dello sketch ossia questo comunque in questo caso vincolo di simmetria devo selezionare i due vertici e la linea che rappresenta la mezzeria e in questo caso viene applicato il vincolo di simmetria appunto i due vertici altra cosa importante che nello sketch posso specchiare ad esempio disegno una figura di qualsiasi tipo in questo caso una figura chiusa mi si attiva il comando specchia che è questo e ovviamente li devo andare a selezionare la linea di mezzeria che voglio utilizzare per la specchiatura in questo caso seleziono di nuovo questa geometria e ottengo una specchiatura approfondimenti sul comando quota il comando quota mi consente di quotare la lunghezza di un segmento semplicemente selezionandolo e facendo clic col tasto centrale oppure selezionando due punti o due entità parallele due segmenti paralleli e facendo clic col tasto centrale mi darà la distanza poi ovviamente se voglio una distanza come dire parallela posso allontanarmi un po e fare clic col tasto centrale così come posso andare a quotare un angolo interno selezionando due entità che non sono parallele tasto centrale e mi dà l'angolo oppure due entità sempre che non sono parallele vado a fare clic col tasto centrale all'esterno in questo caso mi dà l'angolo esterno vado a eliminare questi elementi posso anche definire delle quote particolari ad esempio su un arco di circonferenza normalmente quando disegno un arco di circonferenza nello sketch mi viene proposto una quota di raggio in realtà posso selezionare e convertire in questo modo con una quota di diametro ma posso anche tornare indietro alla quota di raggio perché la stessa cosa la posso fare anche in un secondo modo invece che cliccare con il comando quota una volta sola faccio due clic sull'arco 1 2 poi tasto centrale mi viene aggiunta una quota diametrale posso quotare la lunghezza dell'arco selezionando le sue due estremità e poi l'arco stesso e quindi tasto centrale questa quota poi in un secondo momento la posso selezionare e convertire in questo modo con una quota angolare e quindi questi sono altri strumenti che ho a disposizione sicuramente spesso comodi e quindi è importante vederli affrontarli ok io direi che per il momento è tutto un approfondimento importante l'ho fatto sullo sketch se vi è piaciuto il video datemi un like iscrivetevi al canale se siete interessati sempre delle video lezioni su Creo Parametric un saluto a tutti un abbraccio ciao